Buonasera a tutti, se prendete il posto possiamo iniziare. Io mi chiamo Paolo Mastino, sono un giornalista della RAI e cerco di guidarvi stasera in questa bella serata di premiazione, la serata finale del Fiorenzo Serra Film Festival, che come sapete è organizzato dal Laboratorio di Antropologia Visuale, intitolato proprio a Fiorenzo Serra, la Società Umanitaria, la Cineteca Sarda e con la collaborazione ovviamente anche dell'Università di Sassari. Allora il titolo di quest'anno del premio Fiorenzo Serra è stato legato all'acqua, mondi d'acqua, ruolo sociale, simbolico dell'acqua nella cultura umana, avremo modo di conoscere tanti aspetti, tra cui dei bellissimi lavori, avremo modo di conoscere la giuria, i membri della giuria che ringraziamo per il grande lavoro che hanno fatto, ma un altro grande lavoro è stato certamente quello iniziale, cioè quello legato alla scrematura dei lavori che pensate, sono stati 500 e sono arrivati da tutto il mondo, sono stati ridotti a 21 i filmati finalisti che poi sono confluiti nelle due diverse sezioni, quella principale appunto con un tema prestabilito che è quello appunto come detto dell'acqua, Fiorenzo Serra, e poi l'altra dedicata ad Antonio Simo Mossa. Parleremo di tutto questo, ma prima di tutto io vorrei salutare Antonello Zanda, che è il direttore della società umanitaria di Cineteca Sarda, diciamo anche custode di un patrimonio ampio, è molto prezioso, vieni Antonello, così ci saluti, un patrimonio che cresce anche, devo dire, grazie a iniziative come questa, a questo premio che ha tante finalità, una di quella è di contribuire ad accrescere, a creare un archivio, un database di documentari etnografici e antropologici, tra l'altro molto belli come questi che abbiamo visto e che tra poco procederemo a premiare. Antonello. Sì, intanto saluto a tutti, è un ringraziamento ovviamente a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione del festival, dalle istituzioni ma anche i singoli, insomma, e chi ha fatto parte della giuria, gli autori che hanno partecipato. E mentre venivo qui a Sassa, riflettevo su una cosa che ho detto ieri all'incontro che c'è stato e che mi serve, insomma, per dire una piccola cosa e poi lascio la parola agli altri. Ho detto ieri che il lavoro di Fiorenzo Serra costituisce un po' la colonna vertebrale della Cineteca. nel senso che è il fondo più importante, più forte che noi abbiamo depositato, che noi abbiamo raccolto e che in tanti anni abbiamo valorizzato. Poi ieri, sentendo gli interventi del convegno su Fiorenzo Serra, quest'idea mi si è rafforzata con la sottolineatura che ha fatto Antioco Floris, ma adesso noi sosteniamo già da tempo, che il progetto di Fiorenzo Serra è quello di fare una sorta di enciclopedia audiovisiva della Sardegna. Ecco, questo aspetto enciclopedico che implica ovviamente uno sguardo a 360 gradi sulla nostra realtà con l'occhio di chi vuole documentare e raccontare a 360 gradi questa realtà è un po' la stessa ottica che ha la Cineteca Sarda. Da questo punto di vista, ecco, quest'idea che aveva Fiorenzo nei confronti del suo lavoro rispetto agli obiettivi e alle finalità del suo lavoro, sono in un certo senso obiettivi e finalità della Cineteca Sarda, che è quella di sostanzialmente raccogliere tutto il materiale che riguarda la Sardegna in maniera di costruire una enciclopedia audiovisiva della Sardegna. Solo che l'enciclopedia è fatta dai lavori di Fiorenzo, ma da tutto ciò che ovviamente contribuisce alla costruzione di questo archivio. E sono veramente un mare magnum di lavori. Io ricordo soltanto due momenti del recente lavoro della Cineteca Sarda dopo l'acquisizione del fondo Fiorenzo Serra e gli altri fondi importanti, perché abbiamo un altro fondo importante, è quello di Enrico Costa, l'altro regista sardo che ha documentato la Sardegna negli anni 50 e 60. su Enrico Costa, infatti, credo che lavoreremo, abbiamo già incominciato a lavorare per riuscire a focalizzare la figura di Enrico Costa e a restituirla, insomma, in tutta la sua importanza. A parte questo lavoro di partenza della Cineteca Sarda, ci sono due momenti recenti che veramente testimoniano l'importanza del lavoro che stiamo facendo e il fatto che comunque il lavoro che stiamo facendo è di tipo enciclopedico, no? Tra virgolette, non c'è nessuna presunzione in questo. Insomma, i due momenti sono l'acquisizione del fondo della Presidenza della Giunta regionale, un fondo audiovisivo che si è realizzato a partire dalla volontà di Mario Meris, Presidente della Regione, negli anni, nei primi anni 80, che nell'ufficio stampa della Giunta regionale ha inserito degli operatori audiovisivi, perché riteneva importante documentare l'attività della Giunta anche con il materiale audiovisivo. Ecco, quel documentare l'attività della Giunta poi in realtà si è rivelata una documentazione molto ampia della realtà della Sardegna, perché in quel repertorio d'immagine che sono circa 3.500 documenti audiovisivi, 3.500 documenti audiovisivi, vediamo sostanzialmente la storia, non solo istituzionale, ma la storia sociale della Sardegna raccontata appunto dall'occhio degli operatori audiovisivi che avevano questa finalità. L'altro momento più recente, che risale dal 2011, è il progetto del Cinema di Famiglia, che abbiamo inaugurato nel 2011, e che fino ad oggi ci ha consentito di raccogliere più di 11.000 filmati sulla Sardegna. Ecco, mettete soltanto insieme questi due fondi e siamo a 15.000 documenti audiovisivi che ci raccontano la Sardegna, a cominciare dagli anni 20, perché è il fondo più antico, più vecchio, insomma, del Cinema di Famiglia, è della seconda metà degli anni 20, e sino ai giorni nostri, tenendo conto che ancora oggi c'è qualcuno che lavora con la cinepresa 8 mm, qualche appassionato che continua a utilizzare e la cinepresa c'è ancora oggi. Ecco, il Fiorenzo Serra Film Festival si inserisce nel contesto di un lavoro di promozione, perché l'idea della Cineteca Sarda non è quello di accumulare materiali per poi tenerli con un piglio museale dentro gli scantinati della Cineteca Sarda. Ha senso un archivio, se questo archivio, una volta che lo prendi e cerchi di conservarlo, lo restituisci alla conoscenza pubblica. E il Fiorenzo Serra Film Festival rientra fra le tante attività che la Cineteca Sarda ha messo su da tanti anni per promuovere e restituire questo materiale. Uno dei momenti importanti del Fiorenzo Serra Film Festival è infatti la riproposizione dei documenti straordinari che Fiorenzo Serra aveva realizzato in tanti anni. Però inserendo questo archivio in un contesto di tipo internazionale, perché il vero valore del nostro lavoro sta in un contesto di questo genere e anche il valore degli altri lavori sta nell'essere inseriti in un contesto come quello che noi abbiamo disegnato nel nostro archivio. Quindi chiudo qui il mio intervento ringraziando ancora tutti quelli che hanno contribuito a questo, ma ringraziando soprattutto i miei colleghi di Sassari, del laboratorio di antropologia visuale, insomma che si sono spesi e da anni si spendono per la realizzazione del nostro festival. Ecco, questo mi sembrava importante sottolinearlo, perché è una cosa che dobbiamo sempre continuare a dire. L'ultimo ringraziamento ovviamente è per Pietro Simon Mossa e per i familiari di Antonio Simon Mossa perché ricordo che comunque anche dentro il Fiorenzo Serra Film Festival senza creare momenti di subordine, c'è l'importante figura di Antonio Simon Mossa che da alcuni anni stiamo cercando di proporre e soprattutto di riproporre il suo lavoro in ambito cinematografico che costituisce anche questo un momento importante del nostro festival. Grazie. Grazie mille Antonello per il tuo intervento. Questo è un anno di sicuro particolare, è un'edizione particolare per tanti motivi. La prima è che ricorrono cent'anni dalla nascita di Fiorenzo Serra. La seconda è che è un festival che si è svolto in questi giorni e oggi la serata di premiazione pure è così, si svolge in presenza. Quello dello scorso anno si è svolto online, c'è stato, la quarta edizione, quella dello scorso anno, ma è stato online. Invece quest'anno è bello essere qui. Diciamo così, avete fatto un applauso a Antonello, io ne chiedo uno adesso per tutti noi. Se siamo qua è perché ci siamo vaccinati. probabilmente abbiamo fatto il tampone o comunque abbiamo cercato di rispettare le norme che ci sono state date per uscire da una situazione obiettivamente difficile, come sappiamo. Allora abbiamo detto, 21 lavori sono arrivati in finale, divisi in due categorie. Una, come detto, è dedicata ad Antonio Simon Mossa, che sapete certamente chi è, ma siccome ci seguono in streaming sui canali social del Laboratorio di Antropologia visuale lo ricordo io, architetto, politico, poi abbiamo scoperto essere anche grande appassionato di cinematografia, amico di Fiorenzo Serra, certo, ma grande appassionato di cinematografia. Io pochi anni fa ho scoperto la sua parte che riguarda l'essere architetto, ho visto c'è un libro bellissimo, con tanti disegni originali, devo dire davvero affascinanti, abbiamo scoperto anche la parte appassionato di cinematografia. E poi, come detto, l'altra sezione, che è dedicata invece a Fiorenzo Serra, regista etnografico, certamente il più prolifico dei registi sardi, si contano, pensate, 50 lavori, è un grande lungometraggio, che tra l'altro, devo dire, stamane mi è stato anche regalato, insomma, ne farò tesoro. Dicevo, due sezioni, e quindi due giurie. La giuria del premio Antonio Simon Moss è composta da Pietro Simon, ovviamente, da Cinzia Carrus, che è una regista emergente, abbiamo sentito e presto sentiremo ancora parlare di lei, Francesco Bacchis, che è un docente dell'Università di Cagliari, Cristina Seci, della Cineteca Sarda, e Raffaella Giulia Saba del Centro Servizi Culturali di Carbonia. Mentre il premio Fiorenzo Serra, la giuria del premio Fiorenzo Serra è composta dalla professoressa Cecilia Pennaccini, antropologia visuale dell'Università di Torino, Mario Mossa, mio caro amico collega della Sederai di Cagliari, responsabile della Sederai di Sassari, tra l'altro, Paolo Zucca, regista, Lorenzo Endel dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari, Giuseppina Salvio, operatrice culturale del Centro Servizi Culturali di Alghero. Allora, io conoscerei un attimo al volo le giurie per un saluto. Siccome so che forse non vi siete dati proprio dei presidenti, chiamo io, tanto poi gli altri li vedremo dopo durante le premiazioni. Allora, diciamo Pietro Simon e forse per quanto riguarda la giuria del Premio Fiorenzo Serra, Lorenzo Endel, volete due parole a lui, poi dopo parleremo anche con la professoressa e con gli altri. Eccoci qua. Ciao Pietro, buonasera. Eccoci qua. Partiamo da te. Ti faccio una domanda che io sono stato in giuria due anni fa, mi è piaciuto tanto vedere i lavori, vedere i premi, eccetera, ti faccio anche a te questa domanda, insomma, che qualità avete visto quest'anno nei lavori finalisti? Ottima qualità. Devo dire che anche gli altri, anche i precedenti anni, la qualità era ottima. è sempre stato difficile dare, diciamo, scegliere i vincitori, però è stata una bella soddisfazione. Ti ringrazio per questo commento perché non è casuale, perché noi probabilmente non li vedremo tutti i lavori, infatti sempre mi incuriosisce sapere come è dal punto di vista generale. invece ti posso chiedere invece di Antonio Simon Mossa la sua parte di appassionato di cinematografia. Beh, il più che appassionato ha lavorato nel mondo del cinema, purtroppo con la guerra ha dovuto interrompere ed è stata la sua grande passione. Ti dico solo questo, che per lui l'architettura, grazie a Dio, è stato un ripiego, ma che ripiego? Accidenti. Grazie mille, allora ci vediamo tra poco per la parte invece che riguarda le premiazioni e invece per l'altra giuria posso chiedere due parole a Lorenzo Endel, eccolo qua, aspetta questo lo allontaniamo se no suona. Opla, eccoci. Sì, due parole due, che non siano tre, mi raccomando. Certo, certo. Ok, vado. No, è stato molto bello come sempre quando si partecipa a una giuria perché ogni giurato non porta tanto un punto di vista sui prodotti ma un'esperienza precedente della sua attività, della sua vita per cui non sono tanto contrasti ma sono confronti tra approcci diversi per cui ognuno ha i suoi criteri di valutazione. La cosa bella in una giuria non è appunto di confliggere ma è di essere inclusivi e porsi anche al punto di vista degli altri. Ogni giuria è anche una relazione anche spesso una relazione nuova che si aprono insomma, quindi è bello comunque. me la ricordo anch'io come un'attività anche molto divertente e stimolante da questo punto di vista. Allora, stiamo per iniziare con la parte delle premiazioni vi ricordo solo quelli che sono stati diciamo così i nostri sponsor chi ci ha dato una mano chi ha sostenuto questo premio così importante di sicuro ovviamente l'abbiamo detto la società umanitaria la Cineteca Sarda la Camera di Commercio di Sassare che tra l'altro oggi si ospita l'Università di Sassare il nucleo ricerca e desertificazione della Facoltà di Agraria col diretti ma poi anche Acqua Santa Lucia Abicinema Moderno e l'Hotel Leonardo da Vinci che sta qui accanto è doveroso ricordarli anche perché è importante ricordare chi crede in manifestazioni culturali importanti come questa allora se Simone è d'accordo possiamo vedere insieme il trailer che ci mostra un po' una super sintesi diciamo così dei lavori che sono che sono arrivati a Sous-titrage ST' 501 grazie a tutti 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 da dove arrivano dove risiedono alcuni vincitori sarebbe stato costretto a 10 o 14 giorni di quarantena quindi questo non ha reso possibile la loro partecipazione ma abbiamo comunque un loro saluto. grazie a tutti. 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 grazie a tutti grazie a tutti. 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 un po' gente, eravamo una squadra molto piccola, e per me è stato un piacere di competere con questi altri film. Penso che mi rende molto felice, me e la mia squadra. Children of the Death, è un documentario del cemeterio dove le persone vivono dentro, e ci sono veramente bellissime storie per raccontare di questo posto. Ho veramente parlato alcuni di loro, e spero che abbia piaciuto il documentario come l'ho fatto. Grazie molto per il Fiorenzo Film Festival e per tutte le persone che partecipano lì. Grazie, ciao! Il primo premio è andato a un regista straniero, anche in questo caso, si chiama Mark Lindbergh, e la sua opera si chiama Entre las Plantas, le ripete sono state realizzate in Peru, possiamo sentire la motivazione. Seguendo una famiglia Ashaninka della regione Ucayali del Peru, il film ci immerge nel rapporto di comunicazione e cura tra umani piante e animali non umani. La pratica intensiva di terreno e l'osservazione partecipante del regista antropologo ci consentono di accedere ad un universo di pratica e senso dei nativi, senza uno sguardo esotizzante, facendo emergere l'intimità culturale dei protagonisti e la pratica di incorporazione dei saperi dell'etnografo. Il film ci conduce lungo un percorso in cui l'antropologo prende sul serio i soggetti, umani e non, con cui si rapporta arrivando a sperimentare in prima persona le pratiche. Davvero complimenti allora a Mark Lindbergh, possiamo vedere il suo video? È interessante quanto la sua opera. Hello everyone watching this video, my name is Mark Lindbergh and I'm the director of the film Amongst the Plants. And I've produced this film for my master's studies visual ethnography at the Leiden University in the Netherlands. And next to the film I've also written a thesis about this topic, how my interlocutors communicate and have a relationship with the plants they work with. So if you're interested in reading the thesis, you can find it at my website marklindebergh.com. About the film, the film portrays a family living in the Amazonian city Pucallpa in Peru. And in their garden they cultivate and work together and communicate with medicinal plants in order to help foreigners and Peruvians who are in need of healing. So how they do this, how they communicate with the plants is that they go into ceremony and they ask the mother of all plants, ayahuasca is her name, to help and give information on how to heal their clientele. So during my time making this film, I've participated and been with this family and learned how to communicate with the plants and how they can actually have a relationship with these plants. Well, thank you, thank you for showing your interest in my film. And yeah, thank you for watching this video. Hello everyone. Ecco qua, questo è il racconto di Mark Lindbergh che ha vinto, come detto, il primo primo per quanto riguarda i lungometraggi, mentre c'è stata una menzione della giuria, probabilmente ce la leggerà invece Pietro Simon questa che è già qui accanto, eccolo. Allora, la menzione è andata a Transumanze di Andrea Mura. Il film segue e racconta due generazioni di una famiglia sarda emigrata in Toscana, immergendo lo spettatore nelle pratiche quotidiane del moderno lavoro degli allevatori e nelle riflessioni intorno al proprio senso di appartenenza e al rapporto con la terra d'origine. Fuori dai cliché intorno al personalismo sardo ed emigrato, il regista affronta memorie, mutamenti e sfide nelle biografie dei protagonisti, mostrando gli aspetti problematici della vita degli emigrati sardi in Toscana e cercando di indagare il senso intimo di un legame con il proprio lavoro, al contempo attento all'eredità del passato e proiettato nelle sfide del futuro. Allora, la menzione della giuria per Transumanze dovrebbe esserci Ambrogio Nieddu, che è il soccupato del montaggio di quest'opera così particolare. Eccolo qua. Ecco, questa è la menzione, questo è il premio. Comunque Ambrogio, che è soccupato del montaggio, se non sbaglio, di quest'opera, ci racconti un po' come è andata la creazione di Transumanze, ecco? Che loro hanno portato i materiali e io li ho montati semplicemente, questo posso rire. Dopodiché Andrea ha fatto la presentazione durante la proiezione del film, loro hanno girato in Toscana, hanno fatto delle interviste, dei droni, hanno ripreso, hanno seguito, diciamo così, queste famiglie. E poi abbiamo inserito anche dei materiali di repertorio che ci sono stati dati dalla società umanitaria, anche dalla Cineteca. Infatti volevamo ringraziare anche la società umanitaria, la Film Commission, la Fondazione e il Circolo Peppino Mereu. Grazie mille per le tue parole, mi interessa tanto questo, mi piacerebbe tanto vederlo al più presto, tra l'altro perché è un tema molto interessante. Ho visto un ritaglio di giornale che forse arrivava da quello, c'era scritto Emigrati sardi nel mirino, arrivava da Transumanze, era nel trailer. Può essere, infatti mi ha incuriosito tanto. Grazie mille, allora, e complimenti. Grazie mille. Ok, allora, possiamo arrivare invece adesso alla categoria, diciamo così, Fiorenzo Serra che è del nome al Film Festival. Vi rileggo, se ce l'avete già sullo schermo o no, vi rileggo il tema scelto da quest'anno, che era Mondi d'acqua, il ruolo sociale e simbolico dell'acqua nella cultura umana. Io partirei in questo caso, come sempre, dai corti, partiamo dai cortometraggi, e chiedo di raggiungermi qui Lorenzo Endel, così ci dà una mano per questa parte qua, in particolare quella dei corti. Io partirei dal... anche Mario Mossa, che fa parte sempre della giuria, e ci dà una mano invece per sempre questa categoria, perché giustamente i giurati si sono un po' divisi nel lavoro di preparazione delle motivazioni e così via. Allora, io partirei dal secondo, la ramada di Ferrando Torres Salvador, che ha vinto, come detto, il secondo premio del premio Fiorenzo Serra, e Mario Mossa, che fa parte della giuria, ci legge le motivazioni quali sono state. Eccolo qua. Eccolo. Sì, sì, sì. Andiamo un po' sotto la luce. Prima di leggere, devo dire che è la prima volta che partecipò alla composizione di una giuria di cinema o di documentaristica, insomma, perché, come ho detto quando ci siamo visti per concertare le decisioni, ho detto, innanzitutto sappiate che io non sono un esperto di cinema, sono solo un amatore. e poi ho riscontrato con piacere che in fondo non abbiamo avuto grandi difficoltà ad accordarci, ci sono state solo alcune cose che avevano a che fare più che altro sulla filosofia che sul cinema. La Ramada è uno dei corti, a me è piaciuto subito, e ho scritto veramente poche righe, che sono queste. Il secondo premio per i cortometraggi è assegnato al peruviano La Ramada di Fernando Torres Salvador, perché esprime compiutamente, in un'essenzialità non agevole sul piano narrativo, i sentimenti profondi e universali dell'appartenenza e del destino di un'esistenza che non può mutare, insieme al dovere di un compito che non può essere ceduto più. Bene, allora, Fernando Torres Salvador, con la Ramada riceve il secondo premio. Possiamo vedere un piccolo video saluto che ci ha inviato. Ciao, mi nome è Fernando Torres Salvador, sono direttore del documentale La Ramada. Siamo molto felice dal riconoscimento. Questo ci ci alienta e compromete a seguir abitando problemàtiche social che sono presenti nel nostro paese. Voglio ringraziare a mio equivo tecnico e amici che che hanno ottenuto la finalizzazione dell'automazione della nostra perività. Adesso, grazie al giurato e al gruppo che organizano questo meraviglioso Festival di Cinque, che ha il nome di un grande cineasta, Lorenzo Serra. Les deseo una larga vita e molto èxito nelle prossime edizioni. Grazie. Sono di diverse entità, in base alla classifica ovviamente. Diciamo che in linea generale vanno da 500 euro a 2.500 euro. Sono cifre in alcuni casi anche importanti, soprattutto se ci ricordiamo che tanti dei documentari vincitori arrivano per esempio da Peru, come questo, oppure Egitto, o comunque dei paesi dove certamente è più difficile rispetto al nostro trovare le risorse per cercare di raccontare un po' il mondo che c'è attorno. Ecco perché le finalità del premio di questo Festival in generale sono quelle di cui abbiamo parlato prima insieme ad Antonello Zanda, cioè quello anche di contribuire a creare un'enciclopedia dell'audiovisivo, ma dall'altro punto di vista c'è anche il tentativo di sostenere, anche con cifre che non sono certamente gigantesche, ma in alcuni casi possono essere invece decisive e importanti, di sostenere la nascita di progetti come questo, anche per dire a quei registi che si sono impegnati, c'è un'organizzazione che vi sostiene, che vi aiuta, che crede nel vostro lavoro e che soprattutto guarda, si occupa di ciò che voi fate, insomma che avete fatto. Allora andiamo avanti con la categoria sempre dei corti, possiamo dire chi ha vinto la categoria, si tratta di Gando di Temur Gaderi, un film che arriva dall'Iran, dura otto minuti e ce ne parla qui Lorenzo. Sì, volevo dire a Mario anche che è bello che nelle giurie ci siano delle competenze diverse, sarebbe un peccato mortale se le giurie fossero composte tutte di addetti ai lavori, è importante mettersi dal punto di vista anche di un pubblico, di uno spettatore che non è un addetto ai lavori e rispettare la sensibilità, diciamo anche di tutti, in questo senso anche ci siamo trovati d'accordo. Sì, allora il primo premio della sessione cortometraggi va a Gando, come è stato detto adesso, di Temur Gaderi, allora la motivazione è questa, per la delicatezza e la tenerezza con cui racconta la storia drammatica di una bambina la cui mano destra è stata amputata dal morto di un coccodrillo. Questa vicenda è interamente rievocata dal punto di vista della bambina e la sua voce infantile e stentata, come unica voice over, conferisce la narrazione in un'atmosfera innocente e priva di rancore, con un ringraziamento finale per i coccodrilli che la bambina continua ad amare, nonostante tutto, perché è collegato all'acqua di cui c'è tanto bisogno. Questa è una motivazione. Davvero una bella opera, Gando, che riceve appunto il primo premio. C'è anche una menzione della giuria e ci dà... Continuiamo ora dal video. Grazie mille. Vieni Paolo, che intanto guardiamo insieme il video che ci ha mandato appunto Temur Gaderi. Salam, Temur Gaderi Hassan, car guardane film Gando az Iran. Grazie mille. Salam, Temur Gaderi Hassan, car guardane film Gaderi, che ha vinto il primo premio con Gando. Potrebbe aver detto qualsiasi cosa, anche la ricetta di un piatto particolare, però noi siamo certi della traduzione che avete visto sotto nei sottotitoli. Un'opera davvero bella questa. Allora, c'è una menzione, Paolo, che è andata a Cipaia, La gente d'Agua di Mico Meloni, una bella opera che è stata girata principalmente in Bolivia nel 2016, un'opera di 20 minuti. C'è la menzione, sentiamo le motivazioni della giuria allora. Sì, faccio una piccola premessa, dopo aver visto il regista di Gando, che è un corto che ci è piaciuto moltissimo a tutti. La premessa è che i lavori della giuria sono stati davvero armonici, davvero facili. Io ho partecipato a diverse giurie, sia di fiction che di documentari. Raramente ho trovato una concordia così. Cioè, avremmo potuto davvero eleggere il Presidente della Repubblica in mezz'ora. Non sempre vanno così le cose. Gando è davvero un corto che ci ha toccato il cuore a tutti. Così come anche Cipaia, che ha una menzione, ci è piaciuto moltissimo a tutti. Non solo a me che leggo la motivazione. Allora, menzione speciale della giuria a Cipaia, l'agente dell'Agua, di Mico Meloni, per aver raccontato lo stile di vita, le tradizioni e la tenacia di una delle popolazioni più antiche d'America, attraverso un'indagine etnografica condotta con grande rispetto, sobrietà e accuratezza. Davvero complimenti allora a Mico Meloni. Mico, eccoci. Allora, prima cosa ricevi il premio... Ecco, il premio biodegradabile. E poi ci racconti un po' anche la tua opera. Prima cosa vorrei ringraziare anche perché di questi tempi incontrarsi di persona non è semplice, è in un'occasione del genere due volte grazie. L'opera è nata da un progetto di un'organizzazione di cooperazione internazionale che mi ha chiamato, perché io vivevo già da tempo in Bolivia, eccetera, per poter raccontare i progetti dell'organizzazione in quel territorio, lasciandomi però molta carta bianca, per cui io potevo decidere come raccontare le attività. E piano piano la cosa è andata sempre più nel raccontare semplicemente la vita quotidiana dei Cipaia, che è durissima come può capire chi ha visto il documentario. E quindi è stato anche abbastanza, da un lato difficile per via della lavorazione, però semplice perché si veniva ispirati anche dal posto e soprattutto dalle persone per come appunto vivono, sopravvivono e combattono con il loro contesto che è difficilissimo e riescono a viverci appunto molto amoriosamente. Sono stato lì due mesi, è stato molto molto interessante. Ci credo. Ti faccio una domanda anche un po' da giornalista della TV, soprattutto da Dettor Avori. Hai avuto delle complicazioni, delle difficoltà nel girare? Girare le immagini. Nel girare... Nel rapportarti... Ecco, come si dice, quello che volevo dire è questo. La macchina è una presa, la telecamera, è sempre uno strumento invasivo, ecco. Non è sempre visto benissimo. A volte la gente cambia atteggiamento davanti alla telecamera, ecco. Ci sono state varie difficoltà. Diciamo che se dovessi parlare delle difficoltà, probabilmente quelle di cui parlerei prima di tutte sono quelle fisiche, perché io ero comunque abituato a vivere a 4.000 metri d'altezza, ma in mezzo a un deserto in cui la temperatura va a meno 5, meno 10 la notte e a 15 di giorno, quelle erano le cose un po' più difficili. Poi ho avuto questa geniale idea di voler filmare una tempesta di sabbia da lì dentro e anche quella è stata una cosa complicata. Con la popolazione locale ci sono stati delle incomprensioni in certi momenti, anche perché è una popolazione che è famosa in Bolivia, perché è una delle persone che ne faceva parte, è diventata una star del cinema. E ancora oggi sono tutti convinti che questa persona fosse diventata ricchissima, nonostante vivesse ancora lì, eccetera. Quindi c'era questo mito che quando arrivava il cinema, arrivava la benedizione del cielo. Quindi ci sono state varie incomprensioni, ma non sul mio lavoro, su altre persone, perché avevamo un lavoro collettivo, c'era un'antropologa con me, c'erano degli agronomi che insegnavano certe cose. Diciamo che a un certo punto siamo anche dovuti andare via, però dopo qualche tempo sono stato, quando il film è terminato, è stato mostrato in pubblico, i Cipaia hanno visto il film e a quel punto hanno incominciato a arrivarmi messaggi da Cipaia di ringraziamento e di invito a tornare. Da allora sono tornato due volte a Cipaia, l'ultima volta, poco prima della pandemia, a filmare un altro piccolo video, ma di propaganda, perché loro hanno aperto un hotel in quel paese, in quella comunità, e mi hanno chiesto di fare il video pubblicitario dell'hotel. Grazie mille per questa testimonianza e complimenti per il tuo lavoro. Allora, possiamo procedere alla parte delle premie Firenze Sera che riguarda i lungometraggi. Ecco, vedo già la professoressa Pennaccini che arriva, così ci racconta un po' anche come è stato il vostro lavoro? Ci racconta un po', prima di dire quali sono stati i vincitori, chiedo un po' qual è stato il lavoro di selezione. Poi tra un po' chiamerò anche Simonetta Sera, così c'è una mano per premiare, se ci racconta qualcosa oggi. Professoressa. Allora, è stata una bellissima esperienza. Intanto è una selezione straordinaria di film, si è colto anche dal trailer, film da tutto il mondo, culture diverse, e produzioni anche molto diverse, modalità produttive molto diverse, film più o meno etnografici, ma comunque tutti interessanti. Quindi questo tema dell'acqua, che è un tema centrale nella vita umana, declinato sia in ambito economico che in ambito religioso, ad esempio, che in ambito sociale, è emerso da questa varietà. Quindi, insomma, a mio modo di vedere abbiamo colto veramente un tema importante. La giuria ha lavorato bene, è già stato detto, siamo stati molto, come dire, unanimi, direi, nelle valutazioni, e quindi, insomma, siamo contenti di presentarvi questi lavori con le nostre piccole analisi, ecco, piccole valutazioni. Certo. Allora, io chiamerei anche Giuseppina Salvio, che forse ci dà una mano per iniziare, insomma, a raccontare questi premi, insieme alla professoressa. Partiamo, allora, dal premio secondo classificato. Ci racconterà le motivazioni adesso Giuseppina Salvio. Si tratta del clan dei Ricciai di Pietro Mereu. Complimenti davvero. Ci tengo anche personalmente a fare i complimenti a Pietro Mereu, orgoglio regionale. Buonasera. Il secondo premio della sezione lungometraggi va al clan dei Ricciai di Pietro Mereu per aver puntato lo sguardo con coraggio, raffinatezza e profonda umanità verso coloro dai quali il mondo volutamente e colpevolmente lo sguardo preferisce distoglierlo. Sono gli ex galeotti della città di Cagliari che faticosamente cercano di reinserirsi nella società grazie a una solida rete di mutuo soccorso e grazie alla pesca dei ricci. Mentre il mondo li rifiuta, l'acqua li accoglie. Grazie Pietro. Un bel applauso. A Pietro. Grazie a tutti. Sono molto felice di ricevere il festival, il premio col clan dei Ricciai che è un film che ormai gira da quattro anni. Qua mi trovo a casa perché nel 2018 ho fatto anch'io parte della giuria e quindi è un ritorno a casa. Il clan dei Ricciai è un film che è rimasto per un paio di anni in un cassetto di un produttore poi io mi sono ricomprato i diritti e ho deciso di farlo marciare da solo perché è come è nato è molto particolare la storia perché io sto facendo l'attore in un film che non è mai uscito facevo il pusher all'interno della casa dei Ricciai ho conosciuto queste persone e ho detto stiamo facendo un film che non ha né capa né coda invece la storia di queste persone è molto interessante. Quindi io ero già un autore televisivo proposi a Magnoli al tempo una casa di produzione con cui lavoravo di fare una serie per D-Max su questa storia loro mi dissero no è una storia un po' particolare e un giorno in chat con Nicola Svaporidis gli dissi senti Nicola io ho una storia particolare lui vide un trailer di un progetto che io feci sul calcio storico fiorentino che andò sulla Rai e lui dice io voglio quello del calcio storico no quello l'ho già venduto però ho questa storia se tu mi dai fiducia mi dai un piccolo budget e da là è nato il clan di Ricciai che comunque ha debuttato nel 2018 allo biografia il festival vicenda del premio UCA di distribuzione poi da allora sta continuando ad andare avanti e sono molto felice che abbia una vita così lunga e sono molto felice di questo premio davvero complimenti eccolo il premio lo ricevi dalle mani della professoressa Pennalcini grazie Pietro complimenti allora io chiamo anche è così perfetto chiamerei anche Simonetta Serra qui sul palco figlia di Ferenzo Serra complimenti grazie per esserci come detto questa non è una edizione come le altre un po' perché sono cento anni dalla nascita di Ferenzo Serra un po' perché siamo tornati in presenza finalmente a poterci insomma raccontare queste cose e a poter consegnare i premi allora il primo premio del Ferenzo Serra Film Festival categoria lungometraggi va a Funtaneris di Massimo Gasole davvero complimenti la professoressa ci legge le motivazioni allora il primo premio del concorso lungometraggi va a Funtaneris sulle strade dell'acqua un viaggio tra architettura e paesaggi di Massimo Gasole suggestiva trasposizione cinematografica di un'attenta indagine sulle antiche fontane sarde capace di portare al pubblico grazie a soluzioni stilistiche particolarmente efficaci i risultati di una riflessione sulle concezioni dell'acqua inscritte nel paesaggio e sulle tradizioni ad esse associate davvero complimenti un applauso a Massimo Gasole che invito qui sul palco Massimo allora ti cedo grazie vorrei se fosse permesso chiamare anche Marco carino sul palco il quale è parte fondamentale perché senza di lui non ci sarebbe stato proprio il film e così vi spiego anche da dove nasce questo film si raccontateci un po' ed è basicamente il film nasce da un progetto di ricerca portato avanti da Marco insomma Stefano Maes che è un personaggio che poi vedete nel film vede delle pubblicazioni una mostra fotografica e poi a un certo punto quasi alla fine di questo di questo percorso un mio caro amico che stava lavorando il progetto mi nomina e mi introduce all'interno di questo progetto con l'idea di fare un video ok facciamo un video come se fosse quasi forse un video che raccontasse la ricerca che era stata fatta allora io leggo le pubblicazioni parlo a quello e dico no ma che stiamo a fare un video facciamo un documentario cioè raccontiamo la parte anche più antropologica che era quello che mi interessava a me perché per quanto io sia un amante dell'architettura non avrei saputo come veramente come raccontare un'architettura cioè non mi interessava neanche probabilmente quello che mi interessava era proprio l'aspetto sociale antropologico che c'era dietro le fontane degli oggetti bellissimi nei quali metti avvicini da bambino ma dietro i quali a fianco i quali attorno ai quali non ti immagini che effettivamente c'è tutta una civiltà e attorno alle fontane nascevano per quelle civiltà e quindi siamo entrati in questo progetto con pochissimo budget è vero che non è che c'è stata una lavorazione di preproduzione prima siamo un po' lanciati anche un po' col mio modo di fare nel senso che per me il documentario per quanto poi quando punti una camera la realtà cambia però io cerco sempre di 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 non di farla cambiare il meno possibile tant'è vero che le persone che poi abbiamo intervistato le abbiamo trovate al momento a partire dal primo personaggio che ci viva nella prima fontana che è Ortacesus che è sempre una fontana della tunisina bene questo è un po' più in pillole sono molto felice di ricevere questo primo soprattutto perché stavo quasi perdendo le speranze che questo documentario andasse avanti perché non viene senza stare con ragione troppo considerato nei festival a volte mi è stato detto perché non c'è un colpo di scena ma è il colpo di scena è un lavoro del genere sì no infatti vabbè poi mi sono fatto delle idee ma è meglio che non le dica qualche ringrazio ve lo sapreste Marco vuoi dire due parole grazie grazie a tutti grazie alla giuria per questa splendida iniziativa del Fiorenzo Serra Film Festival io sono molto contento naturalmente per un paio di motivi in primo luogo per Massimo perché Massimo Gasola è stato un interprete straordinario di grande capacità di grande sensibilità su un tema che aveva una complessità alle sue spalle non indifferente che era maturata in anni appunto di lavoro e di ricerca su questo tema delle cose fatte dagli uomini e dalle donne nei secoli per usare l'acqua queste fatiche che noi abbiamo dimenticato e che hanno portato a costruire e anche organizzare la civiltà gli insediamenti gli abitati le tradizioni le favole i timori insomma il mondo dell'acqua in questo senso nel rapporto con la gente Massimo l'ha interpretato così bene da lasciarci subito spiazzati o nel suo modo di fare diceva lui lui ci ha buttato ci ha buttato in macchina alle 5 del mattino camera accesa e via improvvisare su tutto questo è stato molto bello sono felice in secondo luogo e non di meno per il fatto che un riconoscimento così importante possa in qualche modo suggellare così il nostro desiderio di portare un pochino più in divulgazione il sentimento verso il tema dell'acqua nel suo genere nel suo insieme come tema importante per la nostra società se ne parla tanti anni eccetera ma ancora di più per le piccole architetture dell'acqua per questi piccoli oggetti che sono molto fragili rischiano di essere portati via invece la gente li ama anche se ormai a casa abbiamo tutti i nostri rubinetti invece la gente è molto appassionata e l'abbiamo riscontrato continuamente questo ci dà molta carica quindi sono molto contento perché questo possa andare verso i ragazzi verso i giovani studenti che hanno in qualche modo e numerosi partecipato alle ricerche pregresse quindi ringrazio tutti davvero di cuore davvero complimenti ricevi il premio Massimo da Simonetta Serra Simonetta io chiedo due parole anche a te un saluto almeno se lo fai in questa edizione particolare perché dicevo è un piacere insomma averci vederci tutti di persona quest'anno in una data particolare sì questo è sicuramente una novità perché tutti siamo stati a lungo chiusi abbiamo lavorato faticosamente in questo periodo sono grata come ho già detto ieri a tutti quelli che hanno reso possibile e che spero renderanno ancora possibile delle nuove edizioni del Fiorenzo Serra Film Festival grazie mille davvero grazie Simonetta grazie ragazzi grazie professoressa allora siamo nella nostra diciamo così fase finale che è quella dei saluti anche perché abbiamo raccontato il lungometraggio quello più importante io chiedo però di insomma così vorrei fare un saluto finale con chi si è impegnato tantissimo nella realizzazione del festival e anche della della serata finale pensate che quei 500 lavori di cui vi ho parlato all'inizio sono stati tutti ovviamente visionati valutati e selezionati in gran parte se ne sono occupati Simone Ligas Joseph Pintus allora io vorrei chiudere con voi del laboratorio ovviamente di antropologia visuale qui della Cidente Casarda anche con l'università di Sassar intitolato a Fiorenzo Serra e vorrei chiudere con voi parlando però di quel tema che abbiamo utilizzato tanto dall'inizio alla fine cioè il duplice ruolo il duplice obiettivo di questo festival creare un'enciclopedia o contribuire alla creazione dell'enciclopedia da una parte dall'altra a sostenere il lavoro dei tanti autori con un occhio però verso il prossimo anno perché se forse non si può certamente svelare anche perché forse non è stato ancora scelto l'argomento del festival del prossimo anno di sicuro possiamo dire che l'impegno c'è iniziamo da Simone allora buonasera a tutti intanto sono felicissimo di vedervi tutti qui insieme a noi e tanti di voi hanno seguito anche le nostre proiezioni è una cosa molto importante perché comunque siete delle persone che credono ancora nella cultura abbiamo previsto di fare anche di mettere sulla piattaforma online dell'umanitario i film tutti i film finalisti in modo da permettere anche alle persone che magari temevano di andare in mezzo al pubblico anche che non potevano avvicinarsi di vedere i film e quindi sono rimasti disponibili per quasi tutta la durata del festival sì come diceva Paolo è vero il festival nasce da un'idea del nostro direttore Antonello che tra le prime iniziative del appena neonato laboratorio ha detto facciamo un festival perché è una cosa importante perché anche l'etnografia ha bisogno di essere rilanciata e quindi sì noi abbiamo avuto l'idea di creare un database che ci permettesse di conservare tutti questi dati etnografici all'interno e contemporaneamente di dare un contributo a tutti quei registi che si occupano del documentario etnografico soprattutto che è un documentario molto settoriale e che spesso come diceva anche Massimo Gasole prima qua non viene molto considerato nei festival perché comunque occupa una nicchia magari un pochino più scientifica io vorrei fare dei ringraziamenti chiaramente il primo di tutti i ringraziamenti lo voglio fare a Joseph perché veramente è stato un compagno in questa avventura come lo è ogni anno e veramente questo festival ci impegna ma poi arrivare a questa fine è una grande soddisfazione devo ringraziare anche Paolo perché Paolo è sempre disponibilissimo nei nostri confronti oltre che essere il professionista che tutti conosciamo appena l'abbiamo chiamato si è messo subito a disposizione con grande piacere ed è veramente una cosa che apprezziamo tantissimo è davvero un piacere per me dobbiamo ringraziare Antonello Zanda che ci dà un supporto anche quando è lontano da 200 km ci supporta in videoconferenza al telefono insomma in tutti i modi che può è anche il nostro diciamo aiuto scientifico insomma è come se fosse se facesse parte della nostra squadra anche quando non c'è dobbiamo ringraziare tutti i registi che hanno partecipato perché è vero il festival nasce per distribuire il film etnografico ma è anche vero che senza i registi il festival non esisterebbe e senza questi lavori notevoli ovviamente non esisterebbe e per quanto mi riguarda il documentario è una mia passione fin da piccolo e anche il festival rispecchia un po' quello che io ho sempre pensato cioè la possibilità di poter viaggiare in giro per il mondo stando seduti davanti a uno schermo e questo è tutto merito dei registi una cosa un'altra cosa poi lascio la parola a Joseph se non divento noioso un'altra cosa importante che vorrei sottolineare che questa edizione è importante non solo perché viene a cent'anni dalla nascita di Fiorenzo Sera a cui abbiamo dedicato il laboratorio ma anche perché arriva dopo un periodo difficile del covid la scorsa edizione è stata tutta online e questa volta invece siamo riusciti a essere qui di persona ma ancora di più perché questa edizione vede uno sforzo unito di tutta l'umanitaria tant'è che nella giuria c'erano le nostre colleghe di tutti i centri della Sardegna e l'umanitaria pian piano sta diventando sta stringendo un legame sempre più forte una squadra sempre più unita e più bella con cui lavorare lascio la pala giù Giosef dopo tutti questi ringraziamenti Simone però non si è dimenticato apposta però lo faccio io tutta la squadra che lavora con noi che sono il capo ufficio stampa Aldo Muzzo il grafico Luca De Logu che ha costruito insomma le locandine banner eccetera Marco Morineddu che si occupa dei social network Annalisa Pischeda che da una mano ai social network e Carlo De Logu che ha creato le sculture in 3D insomma una squadra che col tempo si sta iniziando ad amalgamare e poi ovviamente bisogna ringraziare anche la giuria che tutti gli anni insomma tira fuori sempre dei film molto interessanti e insomma di livello ecco grazie a tutti bene allora grazie a voi buona serata grazie Paolo posso chiedere a tutti i vincitori di venire qua sul palco per fare una foto tutti insieme con i premi qua così facciamo una bella foto grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti